Bene, continuiamo il nostro discorso sul fenomeno del brigantaggio. Il fatto che i briganti fossero aiutati dai nobili e dalla chiesa e anche supportati dalle popolazioni locali è chiaramente mostrato da questo documento storico, un brano tratto dalle memorie di Carmine Crocco. Carmine Crocco è stato uno dei più famosi capi del brigantaggio e ha riuscito a tenere in scacco per ben tre anni l'esercito piemontese. Le sue memorie sono state raccolte e tradotte in italiano, perché erano chiaramente in dialetto, dal capitano Massa dell'esercito italiano. E scrive a un certo punto Carmine Crocco, la cui immagine potete vedere qua in basso a destra. A molti potrà apparire strano come la mia banda abbia potuto spadroneggiare dal 1861 al 1864 e che, nonostante l'accanito inseguimento della truppa, abbia io potuto attraversare in colume il territorio che separa la Basilicata da Roma. Alla nostra salvezza contribuirono in massima parte i signori con il loro potente ausilio, o almeno con il loro silenzio. Io stesso che scrivo, nei vari anni della mia vita di bandito, dormi poche volte al bivacco e trovai alloggio e ristoro presso persone da tutti ritenute intangibili sotto ogni rapporto. Non fui mai tradito. Molte di queste persone non mi tradirono per paura, benché io non li minacciassi, ma altre molte mi diedero ricovero per interesse ed altre ancora per cupidigia. Il fatto che il brigantaggio fosse appoggiato da Chiesa, Borboni e popolazioni locali, che fosse invece fronteggiato dal governo mandando l'esercito, creò una vera e propria guerra che alcuni storici hanno definito guerra civile antiunitaria, perché una gran parte della popolazione del sud era assolutamente contraria al nuovo assetto all'unità nazionale italiana. Si può quindi affermare che il brigantaggio sia nato dall'unione tra la disperazione dei contadini, che comprendevano come il nuovo governo non avrebbe soddisfatto le loro speranze di ottenere le tanto desiderate terre, e l'ostilità delle classi dirigenti meridionali verso l'unificazione italiana. Anche il re Francesco II di Borbone, in esilio dopo l'unificazione italiana, attraverso intermediari e lo stato pontificio, protessero i briganti. Per questo alcuni storici hanno definito il fenomeno del brigantaggio come una guerra civile antiunitaria. E qua possiamo vedere una vignetta satirica del 1861 che rappresenta il papa Pio IX con il cappello da brigante, indicato qui come il vero capo dei briganti. E qua sarebbe nell'atto di distribuire armi ai briganti. In ogni caso distribuiva protezione la chiesa. E vediamo quale fu il bilancio della guerra al brigantaggio, perché fu una guerra sanguinosissima con moltissimi morti da entrambe le parti. Nel 1863, vedendo che non si poteva risolvere la situazione con i comuni mezzi dell'esercito, il governo proclamò addirittura lo stato di emergenza e approvò una legge eccezionale che sospendeva i diritti costituzionali, conferendo ai militari pieni poteri e ponendo l'intero meridione in stato d'assedio. Quindi seguirono quattro anni di violenze inaudite da entrambe le parti, briganti e loro sostenitori ed esercito e governo. Alla fine il numero dei morti nella lotta contro il brigantaggio risultò superiore a quello dei morti durante il risorgimento, che è durato invece praticamente per quasi metà secolo durante l'Ottocento, tutta la metà dell'Ottocento. Secondo alcune ricostruzioni, tra briganti e civili sarebbero state uccise dalle 20.000 alle 40.000 persone. Chiaramente vi dicevo prima, quando guardavamo un grafico i dati sono incerti, dipende dallo studioso, dipende dal periodo e dalla zona geografica considerata e poi dal fatto che abbia considerato o meno anche i civili coinvolti nelle azioni violente o vittime o sostenitori oppure no. In ogni caso, questo tratto da Wikipedia ribadisce questo concetto, cioè l'incertezza e la mancanza di informazioni ufficiali sulle perdite effettivamente subite dall'esercito e dagli altri corpi impegnati nelle operazioni di repressione del brigantaggio è del tutto analoga all'incompletezza dei dati riportati da vari autori in ordine ai caduti, agli arrestati e ai presentati nel periodo tra 1861 e 1865 e questo è evidenziato anche da questa tabella comparativa che è ricavata da quattro diverse fonti, cioè da quattro diversi studiosi. Uno è Massari, che considera gli anni dal 61 al 63 e quindi arriva a un totale di 7.000 e circa morti. L'altro è Molfese, che dal 61 al 65 calcola quasi 14.000 morti. Torres, di nuovo dal 61 al 63, ne conta 11.000. Maffei, dal 61 al 64, 8.000. Quindi vedete quanto sono diverse le stime a seconda dello studioso e questo è un buon esempio di come la verità storica in sostanza non esista in modo assoluto. Qua vi ho riproposto di nuovo la foto del brigante morto esposto dal soldato che lo ha ucciso. Vediamo ora le conseguenze della guerra al brigantaggio. Se alla fine del 1864 il grande brigantaggio poté dirsi sconfitto sul piano militare perché l'esercito alla fine riesce a sconfiggere i briganti, a arrestarli e ucciderli nella maggior parte, però sul piano morale lo sconfitto fu lo Stato italiano. Infatti le violenze che erano state perpetrate dagli eserciti contro le popolazioni e i briganti ebbero conseguenze gravi e pesanti per l'intera nazione. Nel meridione, ad esempio, è rimasta una totale sfiducia e passività di fronte allo Stato che è considerato come un nemico lui e tutti i suoi provvedimenti come le tasse, la leva militare, i tribunali. Nel resto d'Italia, l'effetto delle leggi eccezionali che avevano dato all'esercito pieni poteri, togliendo addirittura i diritti costituzionali, fece sì che l'esercito e la polizia continuassero spesso a ricorrere alla violenza ogni volta che c'era qualche manifestazione, che qualche disordine agitava il paese. In caso, ad esempio, di scioperi, manifestazioni di piazza, proteste, queste violenze da parte delle forze dell'ordine andranno avanti per tutto l'Ottocento e anche nei primi anni del Novecento, nonostante poi la politica di Giolitti avesse tentato di cambiare le cose. Ecco, un'altra cosa che si può dire ancora, riflettendo sul brigantaggio, è che la conivenza, l'aiuto delle popolazioni ai briganti contro lo Stato può comunque essere in parte origine di quelle che sono poi le mentalità mafiose tutt'oggi presenti in alcune zone del meridione. Vediamo dunque che alla vigilia dell'Unità, anzi subito dopo l'Unità, l'Italia era stata compiuta, fatta come nazione, ma in realtà c'era ancora molto lavoro da fare, quindi un'Italia sostanzialmente ancora da fare. E qua vi ho messo un'immagine di Massimo D'Azzeglio di cui è famosa la frase l'Italia è fatta, ora bisogna fare gli italiani, una frase che sintetizza la situazione del momento e sintetizza il fatto che tutto questo, tutti questi problemi che abbiamo visto dimostrano come il risorgimento non si fosse realmente ancora concluso. Bisognava infatti sconfiggere l'analfabetismo, promuovere le industrie, risollevare l'agricoltura e anche unire le parti di territorio che ancora mancavano. Al governo infatti, più che i problemi gravi, pratici, urgenti, interessava soprattutto completare l'opera di unificazione territoriale, conquistando ciò che ancora mancava, cioè il Veneto e Roma. Ecco che vi mostro di nuovo un momento la carta iniziale che abbiamo visto all'inizio, vedete mancava il Lombardo-Veneto e lo Stato Pontificio. Per quanto riguarda lo Stato Pontificio e il problema dei rapporti tra Stato e Chiesa, esso viene definito questione romana. Alla morte di Cavour, nell'estate del 1861, l'unità d'Italia, abbiamo visto, non era ancora completata. In particolare, Roma non faceva parte dello Stato Italiano e il Papa, Pio IX, considerava il re Vittorio Emanuele II un usurpatore, rifiutando ogni dialogo con il governo. Qua avete un'immagine del Papa Pio IX sul Soglio Pontificio dal 1846 al 1878. Il problema dei rapporti Stato-Chiesa venne denominato questione romana. Esso riguardava anche la legittimità del potere dello Stato, del potere temporale della Chiesa, cioè se fossero diritti effettivi dell'accettazione di persone di religione non cattolica all'interno degli incarichi pubblici dello Stato. Cavour, il grande statista, aveva indicato la via per risolvere il rapporto con la Chiesa sintetizzandola con la frase libera Chiesa in libero Stato, auspicando cioè una separazione fra potere spirituale e potere temporale, separati, liberi, indipendenti. Ecco qua un'immagine di Cavour. Purtroppo, come sapete, Cavour era morto proprio subito dopo l'unità, nel 1861. E quindi il governo si trova anche sprovvisto della sua lungimirante guida. Il Papa e il potere della Chiesa erano difesi, tra l'altro, dalla Francia di Napoleone III, per cui ogni tipo di trattativa diplomatica con il pontefice risultava vano, perché il Papa sapeva comunque di poter contare sull'appoggio della Francia e quindi di potersi permettere di rifiutare ogni dialogo con l'Italia, perché Napoleone III, in caso di necessità, lo avrebbe protetto. Nel 1864 la capitale del Regno d'Italia viene spostata da Torino a Firenze per incominciare ad avvicinarsi a Roma. Roma, infatti, era l'obiettivo finale dello Stato italiano che voleva porre lì la capitale in un luogo simbolico e geograficamente al centro della penisola. Intanto lo spostamento nel 64 da Torino a Firenze suscita le reazioni violente dei torinesi che protestano e suscita anche un po' di timore nel Papa che capisce chiaramente qual è la mossa del governo e subito allerta Napoleone III di Francia, lo vedete qui, in un ritratto del 1855. Ecco Napoleone III. Il Papa Pio IX, dunque, proprio nel 1864, quando viene la capitale si avvicina a Roma da Torino si sposta a Firenze emana un documento intitolato Syllabus Errorum cioè elenco degli errori. Qui il Papa afferma di non potersi assolutamente riconciliare con lo Stato e condanna 80 errori dello Stato italiano. Tra questi c'è la separazione del potere temporale da quello spirituale, la libertà di religione accettata dentro lo Stato italiano e anche la libertà di stampa. Ma interrompiamo un momento il discorso sulla questione romana per andare a vedere quello sulla questione veneta. L'altra parte di territorio mancante all'Italia era infatti il Lombardo Veneto che apparteneva all'impero austro-ungarico. Era una zona con popolazioni di lingua e cultura italiana e infatti non era da tanto che apparteneva all'impero perché era stato ceduto da Napoleone all'Austria con il Trattato di Campoformio. Quindi era solo dal 1797 con il Trattato di Campoformio che queste zone non erano più italiane. e quindi